Abbiamo finalmente raggiunto una tecnologia che ci permette di costruire una giacca totalmente da materiali riciclati ma soprattutto che sono totalmente riciclabili, quindi non solo il tessuto esterno come l'anno scorso ma anche l'imbottitura e tutti gli accessori. La giacca è appunto al 100% riciclabile come con un bassissimo consumo di energia e con un'emissione di CO2 veramente molto limitata. È l'inizio di una nuova era, è una tecnologia che abbiamo in esclusiva noi per il mercato europeo. C'è un altro brand che è Patagonia che ha questo tipo di tecnologia in atto e quindi siamo molto contenti di presentare il nostro nuovo mondo. Sea Shepherd è una partnership voluta da me perché sono degli attivisti appunto a protezione di tutto quello che è la fauna legata al mare è una costola che è derivata da Greenpeace e ovviamente come filosofia ci siamo totalmente allineati noi nasciamo come la Animal Friendly Company, non utilizziamo niente di origine animale abbiamo rispetto completo del sistema appunto legato alla natura e quindi era un partner perfetto per esprimere tutto il tema del mare per il prossimo anno. L'espressione stilistica è un'espressione abbastanza giovane, è legata al mondo dello street è fatta di macro stampe, questo è il logo di Sea Shepherd vedete un teschio che ha nella testa appunto il delfino e la balena che loro proteggono e noi abbiamo voluto dare appunto un'espressione estetica molto giovane con delle scritte che raccontano quello che noi facciamo cioè we respect animals noi da una parte e loro defend, conserve e protect che è il loro claim su cui lavorano.